Muoversi. Infomobilità in Campania. Sulla 2 del Mediterraneo per lavori segnaliamo carreggiata ridotta fino a venerdì 9 marzo nella fascia oraria 7-18, esclusi giorni prefestivi e festivi tra i svincoli campagne e contorsi verso Reggio Calabria. Sulla strada statale 7 bis di terra di lavoro fino a venerdì 9 marzo, per lavori attiva la riduzione di carreggiata tra le località Griciniano D'Aversi e Carinaro in direzione Villaliterno. Sulla strada statale 7 quater Domiziana, per lavori carreggiata ridotta fino alle ore 17 di venerdì 16 marzo, tra l'uscita Castelvolturno Nord e l'innesto con la strada statale 7 bis di terra di lavoro in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale di Salerno, per lavori sono attive chiusure del tratto compreso, tra le uscite Sala, Bagnano e Fratte in direzione Fratte, dagli ore 22 di oggi alle 6 di domani. Dalla redazione Muoversi in Campania, Emanuela Belcuore. E regione Campania.